Si appresta a battere il primo rigore della serie La mamma in curva Ha calciato davvero male Rigore da dimenticare Fa centro dagli 11 metri Ha dimostrato di avere grande sangue freddo Che errore, palla sul fondo Lo sai perché Pier? Perché ha calciato il rigore con paura Non era sicuro Traversa e non va Ci ha provato ma l'ha alzata troppo Pessimo questo rigore Il bersaglio è stato mancato di parecchio La parata di Gollini salva il risultato Niente da fare per il portiere È pronto a calciare Non sbaglia Tutta la pressione è su di lui Se sbaglia è finita Coppa Italia che ha emesso a luogo il suo verdetto Si portano a casa il trofeo Che finale Piero Bella, ricca di emozioni Fossero tutte così Complimenti entrambe per aver dato tutto Si sono sfidate a viso aperto Hanno ribattuto colpo su colpo Hanno cercato di... Grazie a tutti Grazie a tutti